L'olio extravergine d'oliva i fili d'oro viene prodotto nell'area geografica che va da Positano a Pestum e imbottigliato a Rocca d'Aspide, la culla del Cilento. La società i fili d'oro seleziona le olive migliori degli oliveti a ridosso delle colline salernitane fino agli oliveti di Rocca d'Aspide. Riscoprite gli antichi sapori, profumi del Mediterraneo con olio i fili d'oro, un olio capace di soddisfare i sensi col profumo degli olivi, stuzzicando il palato, con le essenze fruttate. Dal Cilento, terra natia dei buoni sapori e della dieta mediterranea, i migliori frutti della coltivazione dell'albero di olivo. Patrimonio immateriale dell'umanità, la dieta mediterranea base i suoi rinomati effetti benefici e curativi nei confronti quali ipertensione, diabete e disturbi cardiovascolari, sull'uso a tavola del buon olio extravergine di oliva, quello prodotto dai fili d'oro e che nasce dall'esperienza degli antichi frantoi del Cilento. L'olio extravergine di oliva 100% italiano è un prodotto esclusivo ottenuto dalla premitura di olive italiane a un basso grado di acidità. Dall'aspetto limpido, velato da decantazione naturale, l'olio non viene filtrato. Colore verde con riflessi gialli, gusto fruttato, dal sapore vellutato, leggero, persistente, retrogusto piccante, ricco di polifenoli e in grado di soddisfare i palati più esigenti. Formato bottiglia da un litro, prezzo per litro 6,33 euro, confezione da 6 bottiglie, totale prezzo 38 euro. Formato bottiglia da un litro, prezzo per litro 5,50 euro, confezione da 12 bottiglie, totale prezzo 66 euro. Olio extravergine di oliva classico, olio di oliva di categoria superiore e ottenuto direttamente dalle olive e mediante procedimenti meccanici, a un basso grado di acidità, è indicato per tutti gli usi in cucina. Formato bottiglia da un litro, prezzo per litro 4,50 euro, confezione da 12 bottiglie, totale prezzo 54 euro. Formato bottiglia da un litro, prezzo per litro 5,50 euro, confezioni da 6 bottiglie, totale prezzo 30 euro. L'olio extravergine di oliva 100% italiano è un prodotto esclusivo ottenuto dalla premitura di olive italiane a un basso grado di acidità. Dall'aspetto limpido velato da decantazione naturale, l'olio non viene filtrato. Colore verde con riflessi gialli, gusto fruttato, dal sapore vellutato, leggero, persistente, retrogusto piccante, ricco di polifenoli, è in grado di soddisfare i palati più esigenti. L'olio ai fili d'oro è ideale per condire insalate, pietanze di pesce, grigliate di carne, bruschette, salse, zuppe, insalate, cibi elaborati per soddisfare tutti i palati.